Buongiorno a tutti, credo che possiamo cominciare questa nostra mattinata, che sarà molto sobria nello stile che vogliamo dare al nostro lavoro, ma credo anche efficace per la qualità degli ospiti che sono con noi questa mattina e che ringrazio fin da ora per la loro presenza. È un gruppo molto qualificato perché abbiamo con noi la dottoressa Angela Palamone, direttore generale dell'ufficio scolastico per la Toscana, l'onorevole Rosa Di Pasquale della Commissione parlamentare Scuola della Camera dei Deputati, rispettrice Anna Maria Lodovichi dell'ufficio decimo proprio ditorato qui di Arezzo, la dottoressa Mezzetti che è l'assessore all'istruzione della provincia, il dottor Marco Donati, assessore all'istruzione del comune di Arezzo, il dottor Andrea Fagioli, direttore della fondazione TSD e del settimanale Toscana Oggi e poi purtroppo abbiamo degli spazi illimitati, ma ringrazio anche il professor Valder Bernardi che poi prenderà la parola a prese della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena di Arezzo e poi il professor Paolo Neppi, docente all'Università di Roma che è rappresentanza del direttore dell'Istituto di Scienze Religiose di Arezzo e l'ingegnere Massimo Brandigi e una serie di imprenditori di cui poi però vorrei fare successivamente diciamo la presentazione. Ecco, si tratta di un incontro che tesse molte relazioni e questo credo che sia un elemento fondamentale per la scuola perché la scuola vive e può far bene il proprio mestiere se è dentro un territorio e dentro un contesto che la possono sostenere e al quale può anche, come dire, offrire il contributo del suo lavoro soprattutto nella preparazione di studenti di generazioni efficaci. E noi ci siamo posti anche, diciamo, alcune riflessioni, anche interrogati, se vogliamo, anche noi dal contesto e anche da alcuni eventi, di alcuni anniversari, siamo fatti anche di queste cose. Insomma, il primo punto di partenza è, se volete, un anniversario. Il prossimo anno, 2013, sono i 90 anni di fondazione di questa scuola, liceo scientifico Redi, perché i licei scientifici, come sappiamo, in Italia sono stati inaugurati dalla riforma gentile proprio nel 1923 e quello di Arezzo è stato tra i primi perché in quell'anno furono aperti soltanto 37 licei in tutta Italia, tra cui il nostro, quindi non esistono licei scientifici più anziani di 90 anni perché è tutto sommato in un gruppo abbastanza ristretto, poi naturalmente nel tempo si sono giustamente allargati altri, ma, però ecco, il punto fondamentale di questo anniversario è stato quello di non tanto, come dire, ricordare il passato, che è cosa certamente importante, ma soprattutto quella di progettare il futuro, quindi anche nella carta intestata che abbiamo messo, qualcuno faceva la domanda, c'è perché compare 1923, 2013 e poi 2103? Beh, insomma, magari è un po' esagerato, però l'idea era quella di ragionare per i prossimi 90 anni, non soltanto con lo sguardo rivolto al passato, anche perché il futuro in qualche misura ci interroga ed è un futuro che è presente, perché gli studenti che sono qui sono studenti che già sono nella sua scuola e che attraverso la preparazione che hanno, che avranno in questi anni, daranno un contributo per i decenni successivi, quindi credo che sia un elemento importante per cui il presente è già futuro. È un'attenzione al futuro importante, il nostro Paese se ne è un po' dimenticato da questo punto di vista e quindi crediamo che sia significativo fare una riflessione su questo. Altro elemento, se volete, anche questo un po' estemporaneo, però sono quelle cose un po' simboliche che ci possono aiutare. Nel 2014 noi avremo a scuola, al liceo, per la prima volta, i ragazzi nati nel 2000, dal 2000 in poi. Anche questo, almeno a me, non so, a voi, insomma, a me fa una certa impressione, perché, come dire, veramente, insomma, si ha la percezione di un mondo e di una generazione che cambia, non è che sono cambiati così, diciamo, dal 31 dicembre al primo gennaio, però simbolicamente un qualche modo di rappresentazione c'è e quindi ci interroga anche cosa vuol dire fare scuola in questo contesto, cosa vuol dire fare scuola nel ventunesimo secolo. Noi parliamo tanto di strumenti, anche di comunicazione digitale, delle reti, internet, ecco, io credo che bisogna abituarsi a ragionare piuttosto in termini di ambienti, non sono più soltanto strumenti, sono ambienti nei quali viviamo e come stiamo imparando, un po' con fatica, ma insomma, qualche cosa la stiamo imparando, a mantenere pulito l'ecosistema fisico, a prenderci cura dell'ambiente fisico, io credo che dobbiamo stare molto attenti anche all'ambiente comunicativo, all'ambiente mentale, a quegli spazi nei quali ormai viviamo e che determinano molto della qualità del nostro esistere e del nostro vivere. La scuola è luogo privilegiato di questa riflessione, quindi non è il fatto che stamattina si parli, insomma, lo diremo tra un minuto, di strumenti, di ambienti digitali, un qualcosa, come dire, legato al semplice adeguarsi a una situazione, perché la scuola su questo deve fare una riflessione, mi permetta di aprire una parentesi su questo, io credo che la scuola ha avuto una grande occasione già negli anni 80, fine anni 80, primi 90, insomma, quando potevamo essere all'avanguardia nel presentare un certo modulo di utilizzo dell'informatica ai nostri studenti, quando non era ancora diffusa nelle famiglie. Purtroppo quell'appuntamento l'abbiamo un po' perso, perché abbiamo un po' visto, legato alla cultura del tempo, soprattutto queste macchine come calcolatore, le abbiamo viste legate alla matematica, con tutta l'importanza che la matematica ha, siamo dentro le scienze scientifiche, come guardo bene dal... Però non abbiamo capito che si trattava di porte che davano accesso a un mondo della comunicazione. Questo è stato un deficit della nostra scuola. Ecco, dopodiché questi strumenti sono diffusi e sono diffusi molto spesso con logiche commerciali, con logiche di colonizzazione d'elementi, piuttosto che di condivisione d'elementi. Però credo che la scuola possa comunque davvero fare ancora molto, non da sola però, ecco perché stamattina vediamo tante persone intorno e tante persone provenienti da ambienti diversi, dall'ambiente della scuola, dall'università, dell'associazione, dell'imprenditoria, del mondo dell'economia, del mondo degli enti locali. Cioè questo è fondamentale, anche perché se vogliamo raggiungere qualcosa dobbiamo essere convinti, consapevoli, che c'è bisogno di tempo. La formazione non è un qualcosa pronto all'uso. Io vado, metto la moneta e ottengo la formazione. La formazione ha bisogno di relazioni umane, la relazioni umane ha bisogno di tempo. Ecco perché il progetto che presentiamo, voi a Ready for the Future, è un progetto di cinque anni. È una cosa abbastanza insolita nella scuola, credo, ma questo è un progetto di cinque anni. Quindi è un progetto che ha al suo interno una serie di sfaccettature diverse, ma che ha questa ambizione di adeguarsi ai processi di apprendimento che sono nuovi, che sono diversi. Si impara per immersione, si impara perché si fa, si impara secondo un modello laboratoriale. Siamo dentro una società delle competenze, quindi credo che i nostri studenti, come tutti gli altri studenti, hanno questa sfida davanti, di non sapere soltanto delle nozioni, ma anche di saper muoversi dentro un ambiente di comunicazione. E questo credo che gli diamo un'occasione. E poi un altro aspetto, l'idea che la scuola, le scuole, siano centri di elaborazione culturale. Bisogna dare dignità al lavoro che viene fatto dentro la scuola. E credo che il fatto che la scuola si metta in condizioni di essere, per il suo territorio, un centro di elaborazione culturale, con i suoi limiti, con la modestia, con la sobrietà, che dicevo prima ci contraddistingue, perché, insomma, sappiamo benissimo anche i nostri limiti, ma questo non deve essere un modo per non assumersi anche le proprie responsabilità. Il paese, la società, ha bisogno anche di un elemento di promozione, di propulsione culturale. E anche la scuola, certo, c'è l'università, ci sono realtà anche più accademicamente, diciamo, ma dal punto di vista dell'informazione, della divulgazione, della motivazione di base, anche la scuola ha un suo importante ruolo. E questo credo che sia un altro aspetto di quello che poi diremo successivamente. Lavoriamo quindi per il futuro. È vero che è un momento difficile, anche economicamente difficile per il nostro Paese, ma è proprio questo che ci deve spingere a scegliere di investire di più nella formazione, perché non è un qualcosa di extra, un lusso, uno sfizio che ci possiamo togliere nei momenti in cui ci sono le vacche grasse. Dobbiamo concentrare su questo proprio quando ci sono le vacche magre, quando proprio le difficoltà sono maggiori. E su questo io vorrei dare veramente, vorrei esprimere un grazie sentito agli imprenditori che in un momento difficile come questo hanno avuto il coraggio e direi anche il senso civico di affiancare la scuola in questo nostro percorso, perché senza il loro contributo sarebbe impossibile pensare di avviare un percorso di questa portata, ripeto, che parte gradualmente, eccetera, che però insomma è anche impegnativo. Quindi la presenza anche del mondo dell'imprenditoria per noi è fondamentale perché è un segno proprio di grande attenzione per la scuola. Io credo che se entriamo nell'ottica di quel tempo lungo, medio-lungo che dicevo prima, sia un grosso aiuto anche per il nostro territorio, perché avere persone, studenti che sono formati, conoscendo questi ambienti, conoscendo certe competenze, potendo fare degli stagi alternanza scuola-lavoro, su cui anche puntiamo molto, sia una ricchezza per il territorio, per le aziende che in esso si trovano e quindi abbia alla fine anche una ricaduta economica. Una ricaduta economica però di lungo periodo, non quelle a volte in cui siamo abituati dal punto di vista anche del mondo speculativo dell'immediatezza, no, qualcosa che abbia questo termine di riferimento. Ecco, io credo che dobbiamo dare l'importanza che meritano ai processi lunghi e radicati. La stessa falsa crescita speculativa ed effimera ce l'ha mostrato, la crisi che stiamo attraversando è anche crisi di futuro. Lo abbiamo ipotecato, l'abbiamo ipotecato ad anno anche delle nuove generazioni. Adesso credo che ci sia chiesto di cominciare a offrire qualcosa di meglio. Anche la formazione, in fondo, è stata per troppo tempo umiliata. Scarsità di risorse, mentre poi magari emergevano sprechi intollerabili. Carriere lampo a incapaci e giovani brillanti lasciati a spasso. È notizia di questi giorni, l'avete visto, di questi laureati che in un call center venivano pagati 2 euro l'ora. Io credo che, insomma, non è soltanto un problema di giustizia individuale verso di loro, che è pure una cosa importante. Credo che sia anche un problema nostro alla società. Cioè, ma quale futuro ci prepariamo? Se a persone preparate, competenti, che lo Stato, la società, ha anche sostenuto dei costi per poter dare certi risultati, poi li sprechiamo in un contesto del genere. Cioè, veramente, è un modo per distruggere il nostro futuro. Se diciamo a parole che la scuola è importante, dobbiamo dimostrarlo in un modo che è fondamentale, implicito, ma fortissimo, quello del contesto. I nostri ragazzi hanno il diritto di arrivare a una scuola e essere accolti in un ambiente decoroso. Prima di tante riforme, che magari cambiano continuamente, la prima riforma sarebbe quella di avere delle scuole sicure, delle scuole con ambienti dove si possa fare attività laboratoriale, delle scuole dove si possa avere anche un insieme di strutture di supporto, perché si possa lavorare anche di pomeriggio. Insomma, cose che sono fondamentali, lo sappiamo tutti, che in un momento difficile, ma dicevo prima, è in questo momento difficile che bisogna assolutamente lavorare. Quindi, naturalmente, poi hanno il diritto anche di chiedere le cose a noi, come presidi, come insegnanti, insomma, i ragazzi, no? Professionisti preparati, messi in condizione di fare bene il loro lavoro, di poter fare formazione e magari, insomma, di non avere alcune notizie che in questi giorni sono arrivate e su cui non entro, ma, insomma, penso che sia chiaro per tutti. Ecco, tutto questo noi lo vogliamo fare proprio nel lavoro quotidiano, senza effetti speciali, senza particolari. Abbiamo anche i fogliettini che abbiamo preparato, sono molto semplici, è una scelta, è una scelta proprio di sobrietà. E, d'altra parte, concludo, insomma, il liceo ha fatto la scelta di promuovere una didattica che si confronta con il contesto. Abbiamo i progetti di eccellenza, ad esempio, nelle varie discipline, le abbiamo organicamente inseriti dentro il nostro piano dell'offerta formativo. Ha fatto una scelta di inclusione, perché offriamo servizi di counseling di vario genere, dal tutor motivazionale, psicologo scolastico, ai nostri studenti, e incoraggiamo, e siamo al punto, il passaggio all'ambiente digitale. Ora, noi, questa mattina, presentando questo progetto, diciamo due cose. Una è che siamo il ready, perché siamo il liceo Francesco Redi, e l'altra è che, diciamo, che siamo pronti. Speriamo che sia vero, ora non lo so se sia proprio vero al 100%, ma, insomma, vorremmo essere pronti per questo passaggio al futuro. E questo avviene in vari modi. Verrà presentato stamattina la convenzione che abbiamo realizzato con la Fondazione TSD Comunicazioni per un canale formativo. Ecco che allora si prende corpo quello che dicevo prima, cioè il canale 217, lo dirà meglio di me poi il dottor Fagioli, è dedicato non soltanto al liceo scientifico, sia chiaro, ma a tutte le scuole della provincia di Arezzo, alla facoltà, all'Istituto di Scienze Religiose, alle associazioni, a tutti quelli che nel territorio hanno da dire qualcosa, e secondo me ci sono tantissime cose che vengono fatte positivamente, e noi, sono sicuro, insomma, di esprimere anche l'intendimento del dottor Fagioli, abbiamo fatto questo itinerario per metterlo a disposizione. Io credo che quanto le scuole fanno, e gli altri che dicevo prima, possa essere veramente degno di essere condiviso, conosciuto da altri, perché ci sia un'offerta importante. Questo per, diciamo, chi è dall'altra parte del televisore, ma anche chi prepara le scuole, credo che sia una bella occasione, non soltanto di documentare quello che già si fa, ad esempio stamattina, io ricordo che il nostro incontro stamattina viene ripreso appunto da questo canale, domani sera alle 9.30, 21.30, sul canale 217, lo rivedremo in forma integrale, ma anche dare la possibilità ai nostri studenti di produrre del materiale video che abbia un riferimento insomma alla scuola, alla cultura, e dando loro anche questi strumenti che sono importanti non come passivi utenti, ma come attivi promotori di questo mondo della comunicazione. Tra l'altro sarà disponibile, spero a breve, anche la versione in streaming, diciamo su internet, anche con le applicazioni per i tablet, per i smartphone. Quindi è una utenza potenziale molto interessante che può essere raggiunta. L'altra cosa che vorrei presentarvi stamattina è questo sito che si chiama comecomunicare.eu, Europa, anche i dettagli contano, abbiamo deciso quando si doveva scegliere quale fosse, diciamo, il soffisso da mettere, ecco che si preferiva mettere Europa, poi gli hanno dato anche il Nobel all'Unione Europea, quindi insomma abbiamo fatto, credo, una scelta saggia. Che cos'è questo sito comecomunicare? È un sito che nasce anche qui da una bella collaborazione, liceo scientifico, la fondazione TSD, ma anche l'istituto tecnico-economico Buonarroti, di cui alcuni ragazzi sono qui presenti, perché negli anni passati abbiamo lavorato, abbiamo perché appunto avevo questa presidenza fino allo scorso anno, abbiamo lavorato su questo sito proprio per creare un ambiente che fosse sul tema della comunicazione aperto alla collaborazione. Questo è un sito in cui chiunque può intervenire, può proporre degli argomenti, può anche gestire un blog. Noi abbiamo qui, vedete, ascolto, guardo, incontriamoci, leggo, navigo, scrivo e ci sono anche dei blog, degli argomenti su queste tematiche che possono essere diciamo dal mondo digitale ai libri, la stampa, il web e ci sono i tag, la nuvola di tag che tutti voi conoscete insomma per cui io posso ad esempio, non so, scegliere qualcosa sul web 2.0 e ottengo una serie di risultati ecco non sto adesso a illustrarlo perché non voglio far perdere ulteriormente diciamo togliere tempo a tutti gli altri interventi che sono molto importanti però vi prego di andare a vederlo e la ricchezza già del materiale che c'è ma questo è soltanto il punto di partenza essere attenti a condividere l'informazione importante che ho trovata con altri è un elemento significativo che crea comunità che crea relazioni e l'invito anche ai nostri studenti è di essere promotori quindi anche un testo scritto un video un audio un'immagine sono competenze importanti di fronte a sistemi che a volte soprattutto giocano sulla profilazione dell'utente sulle conoscenze sistemi di autoschedatura che tutti conosciamo benissimo che hanno un fine di marketing credo che sia importante anche una riflessione di questo genere tra l'altro noi abbiamo celebrato in questa scuola la giornata mondiale dell'open source anche con delle attività a livello nazionale eccetera poi ci sono anche altri aspetti rinuncio brevemente poi passo alla parola che sono legati alla sperimentazione ad esempio dell'insegnamento apprendimento della matematica con strumenti e ambienti digitali qui siamo dentro un progetto nazionale che prevede credo sei scuole in Toscana e un centinaio in tutta Italia quindi insomma il nostro liceo è presente in questo contesto e poi anche la formazione la produzione di materiali digitali per la didattica dentro la scuola e abbiamo qui anche vorrei salutarli il professor Luca Piergiovanni che proprio domani comincerà un apposito corso di formazione ed è un importante diciamo formatore nazionale su queste tematiche lavora per il Como e a Varese a tempo pieno sulla formazione dei docenti è stato docente dell'anno della Microsoft e collabora con diverse università anche statunitensi statunitensi quindi mi sembra che ci siano veramente i presupposti di un ottimo livello per questa situazione ecco io non 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 prolungo ulteriormente questa riflessione vi ringrazio per l'attenzione e vorrei veramente ecco dare la parola ai nostri illustri ospiti perché si dia ancora di più spessore e sostanza a questa tematica cui accennavo prima cioè sono iniziative che dobbiamo svolgere in rete in collaborazione perché il mondo della formazione che si presenta oggi ha bisogno necessariamente di un lavoro di squadra e non di singoli solisti ecco grazie della vostra attenzione e passo la parola all'ottoressa Angela Palamone direttore generale dell'ufficio scolastico per la Toscana e ringrazio fin d'ora per la sua gentile presenza buongiorno buongiorno a tutti ringrazio il presidente Grotti per avermi invitato è molto importante i temi che si trattano oggi sono molto importanti per il futuro della scuola e per il futuro di voi giovani io non nascondo non posso conoscere tutte le scuole della Toscana e tutte le esperienze quindi mi sono documentato sono andata sul sito per vedere che cosa faceva questo liceo e devo dire che con piacere ho notato che questo i 90 anni di storia possono tranquillamente far sì che venga proiettato nel futuro pensare altri 90 anni oggi noi siamo il frutto della nostra storia e quindi il liceo le esperienze fino a oggi acquisite portate avanti dal liceo Redi ci consentono di dare un'apertura al futuro di creare una scuola del futuro e mi sono compiaciuto ancora di più nel vedere che è un liceo che ha portato avanti ha messo in piede l'innovazione in genere i licei tendono ad essere statici non si muovono molto sul versante dell'innovazione tecnologica quindi credo che anche il corpo docente vada ringraziato perché lo sforzo maggiore è comunque fatto da loro sono i vostri docenti ragazzi che si devono riconvertire perché un'innovazione tecnologica non significa solo acquisto di lavagna di computer ma significa fare una didattica diversa una didattica mirata agli apprendimenti il docente non deve abbandonare l'idea di trasmettere i propri saperi ma deve fungere da guida perché in certe quasi tutti le circostanze in alcuni casi i ragazzi ne sanno più dei docenti e quindi necessariamente ci deve essere uno scambio interattivo una comunicazione il docente deve scendere dalla cattedra deve stare in mezzo a voi quindi sapete bene che fare questo è un cambio di cultura è un cambio di mentalità e come giustamente dice il preside Grotti i progetti devono avere un lungo termine cioè devono essere fatti progettati con un ampio respiro perché si deve dare il tempo a tutte le componenti di adeguarsi al nuovo è perfettamente in linea è bellissimo il titolo del progetto siamo pronti per il futuro ed è perfettamente in linea con l'agenda digitale italiana e in particolare quella del MIUR creare nuovi ambienti di apprendimento andare fuori dal concetto classe non c'è più la classe c'è la comunità di apprendimento c'è un'intera società e quello che il valore aggiunto di questo progetto è vedere coinvolti gli enti locali istituzioni del territorio università la scuola che si apre al territorio la scuola come comunità di apprendimento questo è il valore aggiunto credo del progetto al di là di quello che poi si dovrà fare sicuramente sul versante formazione si dovrà cercare di fare per valorizzare la professione docente non ci stiamo mettendo molto in questo punto onorevole De Pasquale credo che dovremmo fare uno sforzo maggiore perché senza i docenti non andiamo da nessuna parte non riusciamo a realizzare niente quindi bisogna sicuramente investire di più e l'idea del canale formativo è eccezionale cioè la scuola che si propone anche all'esterno un accesso anche virtuale alla scuola come comunità educativa questo è essenziale e poi l'ambiente di scrittura collaborativo cioè i nuovi la nuova ehm didattica collaborativa la didattica un apprendimento tra pari credo che eh gli ingredienti ci siano tutti presi dei grotti per una buona riuscita tanti auguri e buon lavoro e auguri ai ragazzi grazie grazie direttore io eh vorrei mettere in evidenza una cosa cioè che a volte nella scuola no siamo attraversati da tantissimi progetti eh anche di buona qualità devo dire però eh manca una sorta di far tesoro di queste cose dentro un contesto un pochino più vasto cioè l'idea è quella di eh noi vorremmo creare un un quadro di riferimento che poi alla fine è la scuola ordinaria cioè nel senso non deve essere una cosa speciale che in qualche misura si accosta ma sostituisce integra cambia innova il quotidiano quindi eh ci possono essere anche più progetti ma l'importante è che ci sia un quadro di riferimento per cui come a volte mi piace dire il singolo progetto è il fatto che io vado alla pompa di benzina faccio il pieno ma dove vado è un itinerario che è una un itinerario continuo non è semplicemente una volta qui una volta là ecco questo credo che sia un elemento importante e bene allora passerei la parola all'onorevole Rosa De Pasquale della commissione parlamentare scuola della camera dei deputati già è stata detta insomma noi devo dire con molta franchezza insomma che la scuola si sente un po' abbandonata un po' ho detto prima la formazione è stata un po' umiliata purtroppo purtroppo così mi rendo conto che bisogna fare un discorso come dire specifico e credo che i i nostri parlamentari che hanno a cuore questo problema come dire ne soffrono quanto noi sicuramente insomma però ecco credo che veramente questo questo problema si senta perché se davvero diciamo che è il futuro noi non possiamo tollerare di vedere quello che abbiamo visto insomma in questi anni allora io intanto vi ringrazio molto per l'invito io penso che qui perché oggi è una giornata importante quindi sono molto contenta di poter essere qui con voi a condividere questa giornata io penso che qui come in tante scuole d'altronde dove ho avuto occasione di trovarmi si stia dando applicazione e si stia dimostrando come la scuola grazie a Dio riesce a essere viva al di là dell'impegno istituzionale per far sì che la scuola continui a vivere perché ormai quasi 15 anni fa è stato lanciata l'idea è nata l'idea dell'autonomia scolastica che poi dopo per cambi di governo altre scelte politiche diciamo non è stata mai portata avanti se non nel suo ruolo amministrativo l'autonomia che abbiamo assistito è stata più un'autonomia amministrativa ecco qui si dimostra come invece le scuole collegate col territorio con la lungimiranza di chi sul territorio sta in questo caso imprenditori associazioni istituzioni locali è riuscita a portare avanti la vera autonomia quella che era la vera cifra dell'autonomia scolastica cioè a produrre ricerca a ricerca azione a produrre a porsi davvero come motore di un territorio motore di crescita di crescita culturale di crescita anche diciamo sociale anche di risorsa di un territorio ecco penso che questo si debba dare atto oggi si debba ringraziare qui in questo caso siamo in questa scuola ma si debba ringraziare davvero i docenti si debbano ringraziare i dirigenti lungimiranti i dirigenti scolastici i ragazzi che hanno saputo diciamo con le loro con la loro risorsa esserci davvero all'interno all'interno della scuola io penso che davvero sia fondamentale questo questa centralità della scuola questo motore della scuola in un territorio ecco e perché ci sia un motore che funziona occorre che tutte le componenti all'interno del motore ci siano e quindi lavorino insieme e quindi è bello questo questo liceo come centro di elaborazione culturale ma come centro di una comunità educante e quindi mi sembra davvero importantissimo questa mettere al centro il discorso di una valutazione di capire anche in un medio e lungo periodo come funziona un progetto perché noi purtroppo siamo abituati in questo paese molto spesso a consumare cioè a dire abbiamo delle buonissime pratiche mettiamo in atto delle azioni ma non ci fermiamo mai a valutarle a capire a capire che cosa funziona investiamo tantissimo spesso in questo io penso a tutto l'investimento che è stato fatto per anni nelle sperimentazioni della scuola secondaria e secondo grado e poi magari con un colpo di spugna invece di capire di valutarle poi di metterle a sistema le cancelliamo e diciamo che non abbiamo risorse e sprechiamo delle risorse sia economiche ma anche tanto umane di tempo di tante persone che hanno investito in questo e allora io penso che davvero qui questo che inizia con tempi medio-lunghi possa essere davvero un'ottima opportunità e anche dimostrare come il dovere essere di una di un'autonomia scolastica e l'idea appunto del canale del canale televisivo mi sembra ottimo perché consente davvero intanto di lavorare in rete intanto di avere un luogo di incontro delle diverse sia delle diverse istituzioni scolastiche sia delle diverse realtà del territorio e anche di non disperdere appunto le buone pratiche che via via si vanno sviluppando perché in un canale dove ci si può parlare si possono anche acquisire idee nuove e quindi interazione io poi avendo anche poco tempo mi ero preparata a due righe perché oltre alla constatazione di quello che voi state facendo e della bontà di quello che effettivamente sta nascendo qui ed è nato già volevo darvi due parole di due concetti base che secondo me sono fondamentali per far sì che davvero la nostra scuola possa ritrovare una dimensione continuare anche in una strada di una dimensione che sia un'effettiva ricerca anche nelle modalità didattiche che abbiamo detto quella frontale lo diceva la dirigente dell'ufficio scolastico regionale sono fondamentali ed è guardate è vero sono importanti le norme e noi ne abbiamo presentate tante se voi andate a vedere sul sito della camera ci sono tante norme sulle reti di scuole sulla nuove modalità di formazione dei docenti e sulla continua la formazione continua in servizio sulle modalità di reclutamento però probabilmente noi viviamo in un'epoca particolarmente difficile in cui sono difficili cambiamenti perché ci si scontra spesso con delle rendite di posizione che diventa molto difficoltoso andare a smuovere per cui è molto importante che la vita in questo momento parta dal basso veramente perché io dico dobbiamo andare a valutare le tante buone pratiche sostenerle e poi andare a istituzionalizzare le buone pratiche perché probabilmente noi in questo paese abbiamo più che mai bisogno di vita di vita da poter che in qualche modo con la sua come si può dire la vita è qualcosa che non sono le parole la vita davanti alla vita non puoi negare non puoi arrenderti cioè ti devi arrendere non puoi continuare a porre degli ostacoli ecco quindi in questo senso e allora in questo senso io ho buttato giù due piccole parole che vorrei lasciarvi proprio velocemente allora la scuola è stata è e sarà sempre ponte verso il futuro cioè un presente perché noi siamo già un presente che deve essere deve essere grande però ponte verso il futuro per questo quando si tagliano le risorse per la scuola quando non le si dà il posto di centralità che le compete all'interno di una comunità quando non vengono valorizzate fatte conoscere le numerosissime buone pratiche che le nostre scuole di ogni ordine e grado esprimono è come se il nostro sguardo lo sguardo di tutti noi si rivolgesse verso il basso e guardassi i propri piedi invece di guardare avanti invece di spaziare di ampliare la propria capacità di visione invece di aiutarci a vivere a pieno la nostra vita oggi qui vengono invece ribadite attraverso questa nostra iniziativa proprio queste peculiarità della scuola anche le attestazioni perentorie da voi utilizzate promuovere promuove l'innovazione e risponde alla sfida dei nuovi paradigmi di apprendimento e degli ambienti digitali e della società della conoscenza dimostrano operativamente lo spirito che vi sostiene quello che per ora desidero comunicarvi cum munus cioè condividere con voi un compito partendo da alcune affermazioni di fondo è relativo al dove oggi ci troviamo tutto sembra diventato più piccolo questa amara constatazione di un disorientamento esistenziale di un'anoressia antropologica che riguarda oggi più che mai l'essere umano ci induce alla riflessione pedagogica nella preoccupata ricerca di vie di uscita non secondarie ci indica tre fondamentali compiti compiti pedagogici da condividere come mi sottolineava un mio carissimo amico pedagogico che ora mi permetto di citare il primo pervenire ad un'attenta comprensione della persona del ciascuno della condizione reale di partenza e delle mete educative implicate un percorso complesso e questo lo sanno i docenti problematico delicato che per quanto possibile deve spingerci deve spingersi alle profondità e alle altezze per certi versi insondabili della persona stessa un itinerario di avvicinamento incontro un andare al tu il secondo occorre un'apertura all'orizzonte delle finalità dei valori rinunciabili a quella dimensione che indica l'orientamento la direzione da intraprendere il senso verso vero dell'itinerario educativo e il terzo per educare bisogna muoversi agire cambiare in meglio è implicato un itinerario da percorrere umilmente ma decisamente a piccoli passi ora tutto questo so che accade in questa vostra scuola vi sono state anche ultimamente testimonianze incomiabili e come voi sapete non è un modo astratto di dire per quanto vi riguarda per tutto quello che avete fatto e per come avete reagito nell'esperienza qui vissuta con Paolo ma questo percorso di fondo desideravo metterlo in evidenza desideravo ricordarcelo proprio come traccia per il nostro presente e per il nostro futuro che come abbia a dire un famoso comico statunitense degli anni 30 luogo Max terzo dei cinque fratelli Max è il luogo dove trascorreremo il resto della nostra vita quindi avanti e per quello che posso sappiate che ci sono che ci siamo insieme che possiamo in qualsiasi momento io sono in Parlamento vostro rappresentante e quindi davvero non desidero altro che avere la possibilità di agire e di legiferare per il meglio della scuola grazie grazie all'onorevole De Pasquale per quanto ci ha detto insomma e ripeto l'importanza che la scuola ha nei confronti anche del mondo legislativo parlamentare e anche per aver ricordato un'esperienza che lo scorso anno qui a scuola credo abbia dimostrato quanto gli ambienti digitali possano essere accoglienti e caldi perché credo che sia stata un modo per avere assieme a noi insomma Paolo per un anno straordinario che poi ha dato questo esito così positivo vorrei anche ricordare a tutti che è entrato brillantemente insomma alla facoltà di medicina come auspicava quindi grazie anche per questo ricordo bene darei la parola alla dottoressa Anna Maria Lodovichi dell'ufficio decimo che credo ci porti i saluti anche il direttore Pagliazzi sì senza altro prima di tutto porti i saluti del dirigente dell'ufficio scolastico provinciale che anche se non è presente però insomma è presente all'interno di questo progetto nel senso che lo condivide come ufficio siamo disponibili ad allargare questo progetto perché se è una buona pratica e quindi si può avere a disposizione questo canale voi sapete che tra l'altro mi risulta gratuitamente è nell'interesse dell'ufficio l'ufficio provinciale di di far partecipare attraverso convenzioni individuali che comunque ogni preside potrà fare direttamente con i dirigenti del canale e quindi portarlo diciamo diffonderlo più possibile per quanto concerne invece il mio intervento vorrei fare due o tre riflessioni io conosco questo progetto perché da tempo insomma lo vediamo insieme a Grotti Grotti è una presenza molto significativa del territorio anche perché per molti anni ha avuto anche reggenza in altri istituti e queste sue potenzialità diciamo questa sua professionalità ha dato modo di arricchire molto la scuola retina la prima riflessione che volevo fare è quella riferita a una mutazione antropologica in atto che di cui non ci stiamo quasi accorgendo però è una tappa dell'uomo che nella propria evoluzione ha un peso enorme forse noi che la viviamo in questo momento non ce ne rendiamo conto però è nato un nuovo continente diciamo con l'avvento delle tecnologie di internet sicuramente oltre ai fatti evidenti le varie le primaverie insomma che hanno portato al riscatto dei popoli in effetti è un mezzo di comunicazione enorme importante da valorizzare che però deve essere diciamo inserito nel contesto educativo questo nuovo continente è un ampio ambito di relazione quindi al di là di quegli strumenti che la scuola da tempo ha offerto sono dei decenni che la scuola non so fino a che punto può aver avuto una tecnologia un po' imposta attua una filosofia di incremento di queste tecnologie coinvolgendo alcuni docenti mettendo a disposizione anche risorse residue però diciamo mette a disposizione queste tecnologie tutto questo però fino a che punto può avere senso nella scuola per quel rinnovamento di cui parlava il preside voi sapete che anche il ministro profumo ha dato ulteriore input con la ponitura di tablet oltre lavagne limme c'è una serie di mezzi tecnologici che da soli non bastano diventano sempre e soltanto degli strumenti nelle mani dei docenti ma se questi non acquisiscono competenze e capiscono come questi sono utili per il proprio lavoro probabilmente non fanno quella rivoluzione che noi auspichiamo dalla crescita dei nostri ragazzi una scuola competitiva noi si si parla come facciamo a diciamo a superare a migliorare le competenze dei nostri ragazzi si parte da molto lontano non è un meccanismo automatico probabilmente questa è una strada la stiamo sperimentando ciò che importa è che in questo che internet si è diciamo si è instaurato un mondo di relazioni molto diverso noi abbiamo già prima Grotti ha parlato dei ragazzi nati del 2000 ma noi abbiamo già nel percorso scolastico i nativi digitali ragazzi che hanno molta familiarità con i mezzi con le tecnologie ma non basta questo perché possono essere anche dei mezzi che non portano alla crescita del soggetto sul piano educativo è la scuola che deve diciamo valorizzare entrare nel merito della comunicazione che avviene all'interno di questo mondo di queste relazioni di questo continente e all'interno voi sapete che proprio il vostro preside ha scritto anche un libro abbastanza importante nel senso che affronta il problema della comunicazione come avviene la comunicazione all'interno di questo nuovo continente è una comunicazione reale o è un pascolo dove siamo stiamo solo vicini questi sono concetti fondamentali di cui la scuola deve farsi carico e allora si passa ad un concetto di una scuola che deve trasformarsi ma non trasformarsi da una tradizione che noi rimediamo qui noi abbiamo il preside Santori e sappiamo quanto adatta a quest'istituto e lo ringrazio pubblicamente perché so quanto ha influito sulla crescita dell'istituto e anche il consenso sociale che il liceo scientifico ha avuto nel tempo è proprio partendo da questo che non è che deve ricostruirsi una virginità come magari in qualche caso parliamo di politici eccetera qui c'è già un percorso molto significativo e una grossa credibilità da parte dell'utenza su questo liceo adesso diciamo si fa un passo si guarda il futuro questo è il fatto importante un onorato passato per guardare al futuro il futuro per alla fine tutto questo nostro discorso vuole migliorare le competenze dei ragazzi e che possano spendere queste competenze noi si dice nel territorio molto meglio non a caso noi abbiamo un territorio che ha bisogno di teste ben fatte io lo cito sempre noi il nostro Moren quando dice non teste ben piedi ma teste ben fatte questo progetto che come dico è un progetto che va sposato va reso proprio da parte dei docenti per far questo prima bisogna conoscere a pieno e acquisire competenze sulle tecnologie quindi una scuola non solo che abbiamo detto più volte trasmette cultura ma è elaborazione della cultura cioè una scuola che la produce la cultura ma la produce come? in una diciamo in una sinergia in cui i docenti e i protagonisti che sono i ragazzi perché senza il protagonismo dei ragazzi e la rimotivazione dei ragazzi la scuola è rimasta un pochino a guardare ha vissuto diciamo questa mutazione antropologica diciamo in maniera un po' passiva adesso ci rende conto del patologico cioè ha visto più il patologico i ragazzi sono meno attenti non hanno capacità logiche non riusciamo a avere disciplina senza interpretare la mutazione del soggetto dell'uomo che avviene a livello anche fisico perché ormai sia nelle neuroscienze o anche altri diciamo tipo di ricerche evidenziano come si sta potenziando l'emisfero destro rispetto al sinistro quindi questa forte immersione su queste su queste sull'immagine porta a una modificazione e la scuola non può prenderne atto quindi mettendosi in una sinergia riusciamo a fare questo passaggio questo adeguamento diciamo graduale allora ritorno a un concetto fondamentale scuola che elabora cultura scuola che non va nei giornali con overdose nel patologico ma scuola che si qualifica all'interno di un canale in cui fa vedere cosa fa in cui i ragazzi io per esempio ho in mente un lavoro che stanno facendo qui i ragazzi sulla matematica che propongono ad altri ragazzi quindi un discorso aperto qui c'è la professoressa che lo segue presentando dei giochi di matematica sotto forma come settimana di legionistica e questo ovviamente coinvolge ragazzi perché l'interesse oggi per questo per questi diciamo apparecchi che loro hanno in mano tutti i giorni bisogna partire da lì per poi però trovare la cosiddetta anche etica della comunicazione cioè non più una comunicazione come Pascolo ma una la scuola che che rivalorizza ecco la metodologia utilizzata la metodologia che qui viene utilizzata è una metodologia diciamo di 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 fisico e digitale non è che qua si sposa il digitale e si trascura l'altro no la sinergia di questi due elementi più la didattica laboratoriale in cui i ragazzi mettono le mani in pasta cioè il tutto in un luogo in cui il ragazzo ci si trova ha un interesse e quindi cresce tutto questo direi che si inserisce molto bene il canale formativo perché ci dà modo intanto di vedere socialmente cosa fa la scuola e non solo andare solo nei casi eclatanti e quindi vedere il peggio che nella scuola ma una scuola che lavora ragazzi che sono i protagonisti del fare scuola e io credo che è vero che i ragazzi sanno bene spopolare è vero sono bravissimi a far tutto però non so se sanno bene qual è il rischio che si può correre all'interno di una comunicazione così come avviene all'interno di questo mondo di questo nuovo continente la scuola deve guidarli la scuola deve essere siccome è ha una funzione educativa importante e formativa non può misconoscere questo aspetto importante l'altra cosa sulla quale volevo soffermarmi un attimo è proprio l'ultima cosa è quella che pur non rinnovare valorizzando il passato abbiamo diciamo avuto l'opportunità in questo liceo di avere il professor Grotti che ha un curriculum in cui le tecnologie sono il suo cavallo di battaglia cioè veramente ci crede ci crede fermamente in questo mondo questo è molto importante non solo ma è anche un filosofo e voi sapete come mai come in questo periodo la filosofia è ritornata di modo perché sono sempre quei famosi interrogativi che l'uomo si pone fin da primordi ecco allora avere una figura stabile perché è il vostro preside quindi è un preside ancora giovane è un preside che si può permettere di programmare i cinque anni e quindi può vedere anche insieme a voi costruire qualche cosa di significativo quindi certamente è già stato detto il preside secondo me è un punto fondamentale sono sempre stata convinta come ispettore che un buon manico serve molto in un contesto specialmente così importante voi sapete che qua ci sono 47 classi ci sono circa mille 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 centocinquanta ragazzi un grande collegio quindi un'operazione che parte gradualmente ha detto in cinque anni ma se c'è questo faro se c'è questo obiettivo con tutti i partner che vedo qua riuniti che possano veramente far crescere i nostri ragazzi perché non dimentichiamoci che il mondo oggi ha bisogno di teste molto ben fatte e i ragazzi competitivi non consentiamo più che i nostri ragazzi vadano fuori prepariamoli per poi anche restare nel territorio valorizzandoli nella loro creatività e le potenzialità che comunque la scuola gli permette di poter arrivare buon lavoro grazie Anna Maria dunque io sono molto contento che l'ufficio scolastico provinciale intenda appoggiare diciamo questa iniziativa perché mi auguro davvero che anche sul canale ad esempio ci sia l'adesione di molte altre scuole perché il liceo non è assolutamente intenzionato essere l'unica scuola presente crediamo che sia anche perché insomma non è che possiamo fare un palinzesto di 24 ore insomma credo che sia importante che ci siano proprio il maggior numero possibile di scuole bene darò parola allora adesso alla dottoressa Mezzetti Panozzi assessora all'istruzione della provincia di Arezzo ringraziandola di nuovo per la presenza buongiorno a tutti è veramente difficile arrivati a questo punto dare un ulteriore contributo perché tante cose importanti sono già state dette quindi per non ripetermi vorrei soltanto dire e citare una frase che Biondi del Ministero ha scritto in un suo libro che se un viaggiatore nel tempo arrivasse oggi nel nel 2012 nella nostra società non riconoscerebbe niente a partire dagli ospedali o tante altre realtà arrivato nelle scuole riconoscerebbe la scuola il viaggiatore nel tempo perché la troverebbe sempre uguale dal punto di vista strutturale e sotto tanti altri punti di vista questo è un concetto appunto che fa capire e è già stato comunque detto prima che a partire anche dalle strutture le nostre aule con i banchi la cattedra sono sempre le stesse è vero che poi esistono i laboratori ma soprattutto è difficile vedere un modo diverso se non quello che è cambiato grazie alla buona volontà di insegnanti e dei dirigenti scolastici di rimettersi sempre in gioco perché in realtà è molto difficile questo passaggio cioè dal pensare che i ragazzi non sono dei contenitori dei vasi dove si versano delle conoscenze ma sono comunque degli esseri dai quali bisogna tirar fuori quello che già esiste e svilupparlo questo è un segnale comunque concreto di come veramente bisogna fare sinergia e bisogna lavorare insieme e poi è chiaro mi rivolgo al mondo del lavoro e anche voi non sempre la scuola non può andare al passo perché nel momento in cui la scuola può consolidare un percorso prima che venga istituzionalizzato passano degli anni e negli anni intanto il mondo del lavoro è andato avanti quindi bisogna veramente formare delle buone teste per poi queste teste saper essere flessibili perché la flessibilità che tanto si richiede deve essere veramente applicata e applicata a tutti e lo dico io poi sono un insegnante quindi in questo faccio un grande mia colpa siamo una categoria che in quanta flessibilità devo dire che siamo un po' resti perché i cambiamenti comunque fanno sempre fanno sempre paure a volte ci piace comunque perseverare nelle nostre nelle nostre certezze nel nostro modo di insegnamento eccetera quando invece bisogna veramente cambiare tutto i dirigenti ai dirigenti spetta un arduo compito che infatti da che si chiamano dirigenti scolastici e non più presidi non si sono devono occupare soltanto di didattica ma loro l'arduo compito di essere di mettere la loro scuola al centro di una società che quindi comprende il mondo del lavoro le famiglie e quant'altro quindi abbiamo comunque delle buone speranze e sono contento per questo progetto che fra l'altro nella nostra provincia già abbiamo in altre scuole e magari la costituzione di una rete sarà molto importante grazie bene grazie anche per questo intervento speriamo che questa sinergia appunto di cui si parlava prima possa poi dare gli esiti che tutti noi speriamo ecco poi darei la parola al dottor Marco Donate assessore all'innovazione e politiche giovanili del comune di Arezzo che ringrazio come tutti altri è venuto ma in particolare perché credo che sia poi anche stamattina giorno di consiglio quindi non so se avrà il tempo di rimanere con noi tutta la mattina però grazie per questo intervento mi alzo che ho davanti il computer alla pianta grazie al professor Grotti per questo invito se dovrò sentarmi tra poco vi chiedo scusa ma c'è consiglio comunale che stamattina ho una pratica in quanto anche assessore al bilancio abbastanza importante quando toccherà a me mi chiameranno e dovrò assentarmi mi dispiace perché ci tenevo a essere qui tutta la mattina perché oltre agli importanti autorevoli ospiti di questa mattina del professor Grotti ci sono anche autorevoli imprenditori che sono parte di questo progetto che credo diano anche il senso dell'importanza di quanto sta facendo il liceo Redi liceo Redi che devo ringraziare perché è particolarmente attento a questi temi più volte abbiamo collaborato con il professor Grotti per questioni strettamente importanti legati all'innovazione e alla comunicazione sta cambiando ovviamente il mondo siamo chi mi ha preceduto ha usato spesso un termine che è condividere condividere è un termine ormai importantissimo riguarda quanto sta cambiando nel mondo moderno soprattutto l'utilizzo dei social media pensiamo a quanto sta accadendo con l'utilizzo soprattutto di Facebook di Instagram di Twitter e tutto quello che oggi ci consente di modificare il nostro modo di pensare e avere le informazioni sta cambiando tutto oggi sembra in declino ormai quello che prima era qualcosa di consolidato la carta stampata rischia di essere travolta per esempio dall'utilizzo di un altro modo di avere accesso alle informazioni che tra l'altro è così usuale a tanti di voi che penso oggi utilizzino e abbiano accesso alle informazioni soprattutto dalla rete e qui però c'è il tema importante del ruolo della scuola che oltre a tentare di rimanere all'avanguardia come fa giustamente il vostro dirigente la straordinaria capacità di riuscire anche con le poche risorse a tentare di mantenere la scuola aggiornata alle nuove tecnologie ma è il tema dei contenuti perché oggi si condivide tantissimo però quello che si condivide non sappiamo spesso se non si hanno le basi chiaramente questo ce le fornisce la scuola e la cultura se quello che condividiamo è qualcosa di giusto quindi rischiamo di avere accesso a quei strumenti così facili basta un clic e condividiamo un'informazione non sappiamo se quell'informazione è corretta o meno quindi noi stiamo dando spazio a qualcosa che magari non è opportune quindi deve essere la scuola che ha questo importantissimo ruolo quindi non credo neanche che la scuola debba riuscirà a rimanere proprio per le difficoltà di questo paese subito al passo con il tempo e con qualsiasi innovazione tecnologica vanno davvero alcune cose troppo più avanti di quello che è il meccanismo legato alla capacità anche dello Stato del Ministero di riuscire a stare al passo da quei tempi ma la scuola deve rimanere attenta a fornire quelle informazioni che contenuti che permettono a noi di comprendere in un mondo in cui le informazioni circolano sono tale tanta rapidità che non siamo in grado a volte di riuscire neppure a contenere tutte ed è importante un altro tema il tema fondamentale è quello che lo Stato e qui deve intervenire davvero la politica deve riuscire a creare quelle condizioni per il superamento del digital divide perché ormai le informazioni che passano in rete e la capacità della rete di modernizzare il nostro paese è fondamentale non è perché riesce a sburocratizzare la pubblica amministrazione e dematerializzare i documenti non è più possibile che esistano ancora i faldoni dappertutto nei comuni negli uffici dell'urbanistica nei tribunali noi viviamo con questo mito che è il faldone che trovate spesso in una pubblica amministrazione che è un papiere di documenti che qualcuno deve cercare negli archivi non è più possibile serve oggettivamente ad operarsi ma non si può fare se non c'è una rete di banda larga che supera il digital divide se non c'è una alfabetizzazione informatica che a volte non riguarda voi che siete ovviamente più preparati di me di molte persone che sono più al tavolo ma riguarda anche coloro che ancora hanno bisogno di accedere alla pubblica amministrazione ma che non hanno gli strumenti per riuscire a utilizzare la rete serve un paese che non sia coperto al 50% dalla banda larga ma un paese che abbia superato davvero gli steccati perché un'impresa non può andare a 56k perché non ha da vendere il proprio prodotto nel mondo i prodotti che ormai circolano in rete io vengo da una famiglia di commercianti veniva il rappresentante a proporti un prodotto attraverso il suo campionario oggi una blogger mette un braccialetto al polso e gli share del logo che sono dei braccialetti diventano un qualcosa che si vuole acquistare dappertutto perché semplicemente un passaggio in rete ha consentito a un prodotto di essere venduto e commercializzato quindi cambia tutto lo dicevo agli amici pochi giorni fa il professor Tagliaferri che hanno creato delle bellissime composizioni con quel progetto straordinario che vede collaborare tra l'altro anche la provincia stanno producendo tantissimo materiale che vogliono tentare di vendere collegarsi alle imprese senza la rete queste cose non possono essere pubblicizzate poi chiaramente cambia il mondo e qui c'è anche il ruolo del comune di Arezzo stiamo tentando di fare delle cose soprattutto la rete wifi nel centro storico ancora è una mancanza importante sto adoperando perché si riesca a coprire davvero le piazze i luoghi perché questo è un motivo anche di attrarre occasioni per questa città il turismo lo è fondamentale tutto questo ma soprattutto perché i giovani possono vivere le città attraverso gli smartphone attraverso strumenti come questi che erano impensabili fino a due anni fa che stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere poi magari bisogna stare attenti che c'è anche i sistemi ceoreferenziati quindi bisogna stare molto attenti perché ci devono indurre la verità se no uno dice una bugia alla mamma fidanzato al parente poi magari si accogge in rete che ha detto che era studiare in biblioteca invece magari è un'altra parte quindi questo bisogna ci inducono sono strumenti ci inducono anche alla verità io credo che sono stato anche troppo lungo volevo essere brevissimo è davvero importante prepararsi al futuro perché tutti i paesi non il nostro purtroppo stanno che stanno investendo che stanno tentando di ridurre la spesa pubblica soprattutto i paesi occidentali che hanno un fortissimo debito pubblico però non stanno rinunciando ad investire su questo tema lo deve fare anche il nostro paese perché per troppo tempo è rimasto in piedi grazie al dirigente come il professor Grotti oggi ci rinunco per parlare e forse anche per cercare di trovare tutti insieme delle soluzioni grazie giustamente diciamo da assessore all'innovazione ha posto l'accento su alcune questioni che sono fondamentali perché effettivamente noi abbiamo un paese che è il leader nell'uso dei telefonini e poi magari invece sulla banda larga siamo ancora molto indietro e anche a livello non soltanto di conoscenza ma anche di economia di imprenditoria eccetera questo chiaramente è una situazione intollerabile perché non possiamo pensare di vivere in un contesto dove non sia garantito un accesso universale e ampio a questo ambiente volevo solo dire che ad esempio nell'ambito di questo progetto noi vorremmo realizzare delle piccole guide audio ai monumenti alle zone diciamo turisticamente importanti di Arezzo da mettere poi diciamo nel sito per essere scaricate e con un smartphone o con lettore il turista può anche diciamo quindi un piccolo contributo che vorremmo dare anche al nostro territorio ad esempio tra i tanti che si potrebbero fare ma che credo che siano significativi bene io vorrei dare la parola adesso al dottor Andrea Fagioli che è il protagonista anche di questa mattinata visto che la convenzione e questa iniziativa la facciamo con la fondazione TSD comunicazione io vorrei mettere in evidenza anche e credo la qualità di queste relazioni che sono state messe adesso sul tavolo quelle con gli enti locali e in questo caso con una fondazione una emittente comunitaria che ha una sua radice culturale ben precisa perché fa riferimento alla diocesi ma che è anche capace mi sembra di avere uno sguardo laico sulla realtà e di porsi in maniera molto plurale e molto corretta con realtà come la scuola pubblica che naturalmente essendo pubblica è di tutti e vorrei citare un'esperienza che già sta andando avanti da alcuni anni che è quella del telegiornale multilingue in cui persone di varie nazionalità di varie lingue parlano di quanto accade nella nostra città è un elemento di integrazione importante e di pluralità perché abbiamo questioni che vanno appunto dal polacco romeno albanese ma anche arabo e quindi insomma una presenza multiculturale importante lo dico anche per diretta esperienza perché molti di questi diciamo vengono anche dal dal CTP dalla scuola per stranieri del Buonarroti di cui è appunto stato preside per cinque anni e che ha dimostrato veramente una grande attenzione quindi vorrei ringraziare ecco la fondazione TFD per questa apertura al territorio e anche per questo aspetto di multiculturalità che ha sempre con tal distinto la sua impostazione cosa che secondo me la fa un partner affidabile anche nei confronti delle scuole pubbliche quindi alla parola dottor Fagioli grazie TSD TV ha messo a disposizione il canale questo è stato possibile grazie al digitale terrestre una premessa per i ragazzi in questo momento stiamo facendo un qualcosa di totalmente antitelevisivo però non avete il telecomando e quindi non mi potete cambiare nemmeno me che parlo adesso a conclusione quasi di questa mattinata in cui abbiamo parlato in tanti effettivamente in un qualcosa che non è televisivamente corretto sapete la televisione è qualcosa di rapido di vivace e si spera che lo sia poi questo canale 217 quindi sopportate anche me per qualche minuto TSD TV cosa c'è dietro a questa sigla c'è la storia c'è il presente e speriamo ci sia il futuro di un emittente televisiva a retina il preside Grotti diceva all'inizio a proposito dei 90 anni di questo istituto senza rinnegare il passato ma progettare il futuro effettivamente questa è anche la storia di questa emittente c'era una volta Tele San Domenico non lo rinneghiamo però tre anni fa è partito un percorso diverso un percorso nuovo tanto che adesso teniamo a chiamarci TSD TV perché in questo TSD cosa leggiamo leggiamo sì il vecchio Tele San Domenico ma leggiamo anche qualcosa di nuovo potremmo leggere TV, stampa e digital media ad esempio nella stessa sigla perché è iniziato un percorso soprattutto un percorso che ha portato ad un polo unico dell'informazione in diocesi di Arezzo, Cortona Sansepolcro che ha messo insieme la televisione che ha messo insieme il settimanale diocesano e lo ha messo insieme alle altre settimanali diocesani della Toscana per questo anche la mia presenza in questo duplice ruolo anche di direttore di Toscana oggi è iniziato questo percorso e subito dall'inizio l'emittente ha puntato la propria attenzione ad alcune realtà innanzitutto ai giovani alla formazione e all'integrazione su quest'ultimo punto già il professor Grotti lo ricordava i nostri programmi si sono caratterizzati e si stanno caratterizzando in questa direzione attenzione ai giovani ad esempio noi abbiamo seguito le giornate mondiali della gioventù con una truppa abbiamo seguito il recente pellegrinaggio in Terra Santa sabato prossimo ci sarà la prima diretta da San Michele dove ha sede il centro di pastorale giovanile quindi attenzione ai giovani alla formazione due anni fa con lo slogan la televisione va a scuola è stata avviata la collaborazione con le scuole del territorio tra l'altro furono coinvolte nella realizzazione delle scenografie per il nuovo studio delle sigle di alcuni programmi tra l'altro una delle sigle riguardava proprio il telegiornale in sei lingue che poi sono diventate sette che ricordava il professor Grotti attenzione quindi all'integrazione attraverso anche questo telegiornale attenzione addirittura ai bambini perché abbiamo varato qualche tempo fa anche un telegiornale dedicato proprio ai bambini e poi la formazione soprattutto abbiamo un'idea di tv come laboratorio per questo noi è importante e anche alcuni dei nostri programmi che ci hanno caratterizzato in questi tempi sono programmi di carattere formativo penso alla carta dei valori dedicata alla riscoperta dei valori a partire da quelli della nostra Costituzione penso al programma mappe oppure ancora all'integrazione con programmi come la tavola delle religioni azillamente un programma recente realizzato in questi mesi e dedicato all'attenzione agli anziani ma anche all'integrazione con le ricette dei vari paesi di provenienza delle persone che gravitano su questo territorio e ora questo canale formativo aperto a tutte le agenzie formative come veniva detto si tratta praticamente di un accordo di rete che intende coinvolgere altre scuole della città lo abbiamo detto l'università che è qui presente l'istituto superiore di scienze religiose e tutte le altre realtà che si occupano di cultura e di formazione insomma quello che noi diciamo è che ci siamo e ci mettiamo a disposizione siamo una realtà non grande però garantisco che è una realtà vivace professionalmente valida e giovane io insieme a qualche altro siamo delle eccezioni in realtà chi lavora in redazione in questo momento sono ragazzi poco più che ventenni e questo secondo me è fondamentale rende questa realtà ancora più significativa e quindi far ben sperare anche al contributo che sarà dato a questo canale formativo canale 217 ripeto domani sera come è stato detto vedrete andrà in onda quello che avete vissuto oggi non sarà televisivamente granché ma da domani sera in poi probabilmente sarà anche molto più accattivante grazie 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 anche per la sinteticità televisiva che in questo caso è stata rispettata io credo che sia veramente un'occasione importante vorrei anche ricordare che TSD mette a disposizione gratuitamente questo canale e questo mi sembra una condizione importante l'impegno richiesto nella convenzione da parte delle scuole è chiaramente quello di fornire il materiale nel senso che non è che possono venire loro a fare le riprese insomma però credo che sia anche un modo per stimolare le scuole a essere autonome in questa fase e a garantire dal punto di vista tecnico un prodotto che possa essere trasmesso per tv però ecco mi sembra e vorrei rilevare questa attenzione molto particolare di dare gratuitamente questa questa disponibilità bene e adesso andrei la parola al professor Walter Bernardi che è preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena sede di Arezzo con il quale anche in questo caso abbiamo collaborazioni insomma da diverso tempo e vorrei citare a proposito di a proposito di tecnologie digitali il fatto che quest'anno con l'Università di Arezzo ma anche con la Scuola Sant'Anna di Pisa avremo una sperimentazione insieme anche alla USLE peraltro di Arezzo una sperimentazione sui temi di bioetica attraverso il social network quindi la Scuola Sant'Anna di Pisa ha costruito una piattaforma digitale e l'Università diciamo ci dà il contributo e noi lavoreremo insieme ma questo è uno dei tanti esempi che potrebbe fare buongiorno dunque io conosco e lavoro con Anselmo Grotti dall'altro secolo e devo dire lui era un professore del liceo Petrarca io ero un giovane professore per dire dell'Università la prima cosa che intui subito è che la scuola era più avanti dell'Università tant'è vero che il professor Grotti al liceo Petrarca aveva un laboratorio di informatica con una intranet che era allora una formula mitologica mitica e io dissi lo voglio fare anche all'Università e allora per lui feci una piccola cosa lo portai a fare un insegnamento all'Università a contratto ovviamente lui era professore di scuola di informatica applicata alla filosofia pensate un pochino nell'altro secolo insomma eravamo un pochino pronti anche per il futuro allora ma devo dire io ho dovuto sempre inseguire Anselmo Grotti sempre dietro a lui in scia anche come ciclista io sono anche un ciclista ma lui sempre davanti a me tant'è vero che ora io sono ancora predile quindi un rottane ormai lui è già diventato dirigente scolante io sarò l'ultimo preside della facoltà di lettere di Arezzo perché come sapete questa forse è una notizia non tanto bella le facoltà non ci saranno più l'Università quindi riprendendo un pochino questo slogan di questa iniziativa se l'Università è pronta o meno per il futuro credo che la scuola nonostante voglio dire le diagnosi diverse che sono anche emerse in questa mattina la scuola sia pronta se uno mi domandasse così ora c'è anche il professor Neppi magari lo sentiamo di lui successivamente così di brutto se l'Università è pronta per il futuro direi no e sì ecco direi no e sì ecco perché è anche questa cosa per esempio che scompaiono le facoltà no quindi noi dovremo comunicare a breve alle famiglie alla dovremo comunicare questa cosa che non ci sono più le facoltà non ci saranno più le facoltà allora immagino lo smarrimento lo smarrimento delle famiglie dei genitori ma anche dei ragazzi a sapere che non c'è più la facoltà di ingegneria la facoltà di lettere e filosofia ci saranno i dipartimenti ma insomma non avranno più questi nomi non avranno più e quindi sarà una cosa di non poco conto come dire riuscire a come dire entrare in questo in questo futuro però insomma ora non voglio essere così così pessimista credo che ci siano anche dei segnali significativi importanti come dire che fanno sì che l'Università non può abdicare a questo suo ruolo storico che è sempre stato quello come dire di guardare al progresso cioè di formare insieme alla scuola ovviamente perché noi prendiamo i diplomati del liceo quindi di formare quella che si dice la classe dirigente quelli che saranno destinati a prendere il nostro posto quindi l'Università dovrà necessariamente mantenere questo suo ruolo e quindi credo che anche questo sarà importante ma sarà importante forse anche come dire far sì che emerga ecco prendendo anche l'esempio dalla scuola questa voglia questa sfida dei professori universitari di come dire di aggiornarsi di più perché se i professori della scuola come dire di fronte alla pressione dei ragazzi hanno fatto credo che l'abbiano fatto Anselmo è un pioniere da questo punto di vita questo sforzo enorme di aggiornarsi di rimanere a contatto con i giovani tutti i giorni perché la pressione dell'utenza come sappiamo è un elemento forte che i professori universitari invece come dire si trincerano nei loro riti per i quali la lezione cattedratica insomma è sempre qualcosa è difficile come dire ho sentito delle belle parole stamattina non c'è più la classe bisogna condividere la comunità dell'apprendimento i professori universitari non lo so se sono in sintonia con questi discorsi però vengo un pochino a chiudere un pochino questo mio intervento anche per complimentarmi ovviamente con quello di cui si sta parlando e credo che l'università necessariamente deve entrare in questo network in questa in questa rete tra l'altro devo dire anche parlando come preside della facoltà di Arezzo devo dire non siamo come dire alla retroguardia del mondo universitario come sapete spesso sono venuto anche qui a fare orientamento nelle scuole a parlare di queste cose la facoltà di lettere di Arezzo è sempre stata classificata nelle graduatorie census tra le prime tre facoltà di lettere in Italia quindi non siamo gli ultimi arrivati però come dire riusciamo sempre come dire a trarre degli stimoli importanti confrontandoci con il mondo della scuola allora per esempio questa cosa questo progetto di cui parlava accennava prima Anselmo credo che sia un buon viatico da questo punto di vista cioè in questo caso è un po' l'università come dire che tira la fila come dire dei corridori dietro nel senso che siamo riusciti a intercettare un progetto regionale con finanziamenti europei credo molto proiettato sul futuro perché si chiama si intitola social network e nuovi apprendimenti cioè che cosa noi andremo a fare e lo sperimenteremo proprio con il liceo rete con un paio di classi quarte e quinte quindi a breve come dire verremo qui a fare questa cosa abbastanza importante quindi ci siamo messi insieme con una facoltà di ingegneria robotica come Sant'Anna di Pisa quindi anche qui un livello assolutamente di eccellenza in Toscana una facoltà come la nostra mettendo insieme che cosa gli ingegneri che cosa faranno stanno costruendo una piattaforma una piattaforma digitale sostanzialmente per gli utenti che sarete voi le cavie di questo esperimento quindi una piattaforma Facebook sostanzialmente dove però saranno caricati inseriti tutta una serie di contenuti di carattere culturale natamente culturale in particolare di una di un mondo disciplinare che interessa a tutti come quello della bioetica il mondo della sanità quindi che ha un rapporto molto significativo e importante anche con quello che viene studiata a scuola in particolare con la storia e la filosofia e quindi tenteremo di verificare se come credo la risposta come spesso sono domande interrogativi retori la risposta è certamente sì cioè che questi strumenti digitali di comunicazione di informazione nuovi moderni hanno al di là del loro aspetto così di divertimento tutto quanto un forte contenuto di apprendimento cioè sono veramente la nuova frontiera dell'apprendimento possono essere un modo nuovo importante di apprendere di misurarsi con il mondo poi reale perché insomma queste cose sappiamo bene che anche facebook voglio dire alla fine è diventato un grande motore di economia di progresso di economia sostanzialmente e quindi potrebbe darsi che un'esperienza di questo tipo che vede insieme l'università e la scuola come dire possa servire minimamente anche a colmare questa distanza che si enfatizza spesso tra la scuola il mondo del lavoro tra quello che si impara nelle aule di un liceo di un'università e la sfida vera poi del mondo che sta fuori quindi complimenti ancora io sono veramente molto contento lusingato ancora una volta di lavorare con Grotti e spero che come dire questo veramente ci sia anche una porta verso i punti grazie 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 a Walter grazie a Walter Bernardi ecco io a questo punto farei una piccola modifica all'ordine chiederei un attimo di pazienza a professor Netti e all'ing. Brandigi perché vorrei chiamare al tavolo siamo andati un po' lunghi con i tempi il dottore Simoni per Monnalisa e Butali se volete prendere posto qui prego abbiamo fatto un po' aspettare con i tempi ma perché ecco c'è questa fase questa fase diciamo di collaborazione con il mondo imprenditoriale che è molto che è molto importante perché dicevo prima noi ci interessa molto questo rapporto è un sostegno economico che ci viene dato e questo è importante ma è importante anche un sostegno a livello di luogo dove i nostri ragazzi potranno fare ad esempio anche degli stage fare un'esperienza a lavorare importanti io vorrei citare quelli che sono attualmente i nostri partner che sono la Vutalia S.P.A. del corto S.R.L. Graziella S.P.A. Monnalisa S.P.A. e anche i 3M S.P.A. cioè qualcosa che veramente dà il senso di un impegno civile del mondo dell'imprenditoria e dell'apertura mi auguro insomma della scuola a questo tipo di rapporto anche in un liceo insomma anche io vengo all'esperienza nel studio tecnico dove magari il rapporto con il mondo del lavoro era più facile e più immediato ma credo che anche per il liceo sia una cosa importante perché alcune competenze che si acquisiscono sono comunque spendibili nella nostra formazione quindi io le ringrazio prima di tutto per la loro presenza anche per i tanti impegni che hanno e mi scuso per i tempi un pochino più lunghi che abbiamo dato che hanno impedito anche ad altri di rimanere naturalmente questo progetto è aperto anche ad altri mi auguro partner che vorranno unirsi a noi ma questa è già una ottima base di partenza quindi do la parola ringraziandoli e ascoltandoli volentieri io ringrazio professore diciamo mi sento un po' emozionato per due motivi come prima cosa come Aretino non soltanto come amministratore delegato della VUTARISPA e come ex studente di questo liceo quindi diciamo per me per la nostra azienda è un onore partecipare a questo piano di sviluppo piano di formazione tengo a precisare che diciamo anche se la nostra azienda svolge il volume di affari soltanto il 7% del suo volume di affari nel territorio della città di Arezzo è sempre stata legata a iniziative culturali di vario genere legate al nostro territorio ecco riferendomi nello specifico a tutte le persone che ho ascoltato molto attentamente che hanno parlato prima ora non mi ricordo bene chi ha fatto questa osservazione noi come aziende specie aziende di servizi aziende commerciali soffiamo moltissimo il gap che ci separa tra i ragazzi con cui noi andiamo a fare dei colloqui per le assunzioni la nostra azienda che ha un'età media molto molto bassa gli impiegati di 720 persone tra full time e part time e devo evidenziare che tutti i ragazzi che vengono a fare un colloquio da noi hanno un gap culturale molto importante fra la realtà del mondo del lavoro e la realtà della formazione mi riferisco alla formazione liceale cioè a quello che un ragazzo è in grado di fare è in grado di recepire dal mondo del lavoro uscendo da una formazione secondaria questo è un diciamo è un trauma che ho vissuto anch'io personalmente entrando in un'azienda familiare sulla mia pelle e io non so se in 30 anni forse credo se le cose siano un po' migliorate però noto sempre questa difficoltà infatti molte aziende che devono vendere devono stare in un mercato molto competitivo che poi riguarda poi anche l'information tecnologica cioè la formazione via internet e tutto quello che si può fare in un'azienda commerciale attraverso internet la nostra azienda organizza degli stage prelevando proprio i neodiplomati e formandoli facendo poi delle selezioni di quelli da assumere e dando anche degli attestati di partecipazione questo ritengo che non debba essere un compito di un'azienda se non in minima parte ma ecco le istituzioni tutto quello che ci circonda la politica dovrebbe già fornire una certa preparazione di base affinché un ragazzo di 20 anni possa entrare nel mondo del lavoro in un modo più consono e più aderente alla realtà di oggi questa è una cosa che onestamente è noto sia dal punto di vista personale che dal punto di vista aziendale detto questo il progetto non so come si concretizzerà all'atto pratico ma io sono orgoglioso di far parte di questo progetto anche perché il mio amico ingegner Massimo Brandici mi ha coinvolto in questa cosa che mi onora alquanto e io spero che la nostra azienda possa portare un contributo veramente importante a questo tipo di progetto legato anche al liceo scientifico grazie buongiorno si sente? sì io anzitutto volevo ringraziare il liceo e poi Brandigi per aver coinvolto e pensato anche alla Mona Lisa per averci coinvolto con questo progetto e prima qualcuno ha detto che le imprese si sono dimostrate pronte a assolvere a un loro dovere anche civico in realtà per me questo è tutt'altro tranne che un assolvere a un'obbligazione che sento di avere nei confronti del territorio della scuola è veramente un piacere e è una cosa che devo dire io faccio anche con una certa con un certo opportunismo imprenditoriale la Mona Lisa ha preso nel tempo dal liceo Redi ho fatto una piccola indagine prima di venire qua la settimana scorsa per capire quanti si sono presi direttamente dal liceo o si sono presi dopo dopo aver fatto anche una transumanza universitaria e devo dire che insomma noi in qualche modo siamo un po' a debito nei confronti di questa scuola per cui ridare qualcosa era al minimo oltre a questo io vedo una grande opportunità nel senso che a parte l'aspetto strettamente informatico degli strumenti dell'hardware che per me io non mi spavento non mi preoccupo a vedere un bambino di due anni tre anni giocare con un tablet d'altra parte io sono relativamente giovane ho 41 anni mi ricordo però che ho imparato a fare le operazioni con un abaco di legno e delle specie di tappini di gomma ora se i miei figli invece di utilizzare l'abaco di legno e i tappini di gomma trascineranno con un dito un pallino dentro un abaco rappresentato su uno schermo cioè la cosa non mi sorprende questi sono gli strumenti che ci hanno in giro poi i bambini hanno una capacità di assorbimento di tutto ciò che li circonda impressionante per cui io stesso ho due figli abbastanza piccoli e quello di cioè il più piccolo ha tre anni ha trovato un tablet in giro per casa e ha una maggiore familiarità rispetto a quella che ho io con questo ma non è tanto importante l'abaco di legno lo schermo l'importante è sono i contenuti che la scuola e io mi ci metto dentro perché la sento come una responsabilità le aziende devono riuscire a inserire dentro questi strumenti perché questa è la sfida vera e a me piace molto questo progetto perché a parte gli strumenti si pone due obiettivi cioè almeno non so se lo fa consapevolmente ma insomma io ho letto questo tipo di valore cioè sfrutta l'obiettivo è quello di sfruttare quello che oggi fortunatamente le tecnologie ci mettono a disposizione per agire in due sensi uno è quello della democratizzazione della socializzazione della conoscenza che è fondamentale cioè qui si è parlato più volte di comunità cioè nel momento in cui io metto dei contenuti su un portale in cui faccio vedere alcune cose in televisione dove non è necessaria una username una password per poter fruire di questi contenuti insomma fare un passaggio particolarmente importante cioè il liceo esce con i suoi contenuti da muri della scuola e si offre anche a chi non paga le tasse per essere dentro questa scuola e a chi ha dei tempi che non sono strettamente conciliabili con quelli della scuola a chi non ha avuto l'opportunità di fare questo percorso a chi si è formato qualche decennio fa quindi io ritengo questa una cosa socialmente favolosa una grande opportunità l'altro aspetto è quello se non ho capito non ho interpretato male la volontà è quello del coinvolgimento dei ragazzi nella produttiva e io spero delle aziende in futuro infatti vorrei parlare anche delle motivazioni e degli obiettivi della Mona Lisa rispetto a questo progetto perché ripeto sono qui un po' perché mi sento di dove dare qualcosa ma anche perché vorrei sfruttare questa opportunità ecco la condivisione di una comunità infatti qualcuno prima ha parlato di comunità della conoscenza comunità della formazione ecco il coinvolgimento dei ragazzi e delle imprese e di tutti coloro che in qualche modo a varia natura delle istituzioni parteciperanno a questo progetto nella produzione di contenuti che sono la cosa più rilevante quindi obiettivi che condivido pienamente e io direi un'altra cosa obiettivi motivazioni dell'azienda e obiettivi dell'azienda diciamo sì noi abbiamo dato firmato una convenzione in cui ci siamo impegnati a contribuire con la risorsa più facile da dare che sono i quattrini dico più facile relativamente nel senso quella più fungibile quella che si basta prenderla da un cassetto e spostarla ad un altro non che ce ne sia tanta anche se devo dire come azienda e come direttore generale della Mona Lisa noi cioè io ritengo che ci siano solo due voci nel bilancio che sono assolutamente incomprimibili una è la formazione e se controllate i nostri bilanci negli ultimi tre anni e lo vedrete anche il prossimo anno noi abbiamo incrementato in maniera significativa i nostri investimenti informazione e l'altro è l'adeguamento dell'infrastruttura tecnologica dell'azienda per poter essere coerente rispetto alle cose che facciamo e che faremo nel futuro per cui questo progetto è totalmente coerente rispetto a questo tipo di approccio ma dicevo io ho messo a disposizione le risorse tante poche che siano ma quelle non mi pesano cioè anche se ovviamente la tentazione da parte di chi esterno alla proprietà si trova a dirigere un'azienda c'è no di dire vabbè evitiamo di dar questi soldi tagliamo tutto il tagliabile questi sono investimenti totalmente discrezionali cioè voglio dire non è che è obbligatorio farli cioè se devo fare un vestitino per una bambina e mi serve il tessuto quello non è un investimento poi posso decidere di pagare meno se c'è lo spazio posso cercare di pagare meno un fornitore ma quell'investimento lo devo fare per forza quelli sulla formazione sono un po' diversi se uno ha la tentazione a tagliarli voglio dire si fa presto ad essere colti in tentazione per cui io mi ricordo quando Massimo è venuto da me a parlarmi di questo progetto dico porca miseria un altro siccome sono tanti i progetti che si propongono alle aziende che arrivano sul tavolo c'è la tentazione di dire vabbè vediamo se me lo gioco un pochino Massimo e riesco a scappare da questo investimento poi mi ha illustrato il progetto e mi è sembrato una cosa intelligente supportarlo però ecco io vorrei che non finisse qui non nel senso che voglio pagare la prossima rata il prossimo anno a cui mi sono già peraltro impegnato per cui se ne esce poco bene ma dico io vorrei che ci fosse poi veramente un coinvolgimento dell'azienda ma non sui soldi perché i soldi valgono poco non conta niente ma sui contenuti sui progetti sulle cose che possiamo fare insieme agli studenti io l'ho già chiesto a Massimo ho dato la mia piena disponibilità cioè io le risorse che potrò mettere a disposizione di risorse umane le persone che potrò mettere a disposizione del progetto mi impegno già da ora a mettere a disposizione mi farebbe piacere dopo che si sarà formato un minimo di piattaforma di base competenze dei ragazzi i ragazzi saranno più pronti ecco vorrei che si facesse davvero qualcosa insieme cioè che si sviluppasse qualche progetto insieme per produrre contenuti insieme per avere un coinvolgimento da parte dell'azienda che sia fattivo ecco io voglio ringraziare quindi ancora una volta e lasciare chiudere questo questo mio intervento con questo auspicio ecco grazie grazie a entrambi è stato colto tra l'altro perfettamente il senso del progetto perché quando lei diceva noi ci occupiamo di formazione dentro l'azienda però chiediamo anche che ci sia una formazione pregressa ecco è proprio quello che noi vorremmo tentare di fare con questo nostro impegno quindi è una diciamo sensibilità vostra come aziende che apprezziamo in maniera particolare come segno di impegno civile detto prima ma credo anche come intelligente modo di investimento stesso delle vostre aziende nel senso che poter avere persone preparate in un certo modo credo che possa essere un vantaggio anche certo non un vantaggio immediato in questo senso diciamo è una capacità di vedere lungo di vedere lontano insomma che però credo sia quella importante per mantenere certi primati poi anche l'aspetto dell'accesso sociale democratico al sapere che mettiamo in evidenza mi sembra molto importante e questa tematica di avere una collaborazione certo per la parte economica ma anche e soprattutto per questa disponibilità perché credo che i nostri ragazzi imparano nel momento in cui le competenze che acquisiscono sono spese in un contesto reale io faccio un esempio per credo esprimere chiaramente questo aspetto da prestire del commerciale ad esempio avevamo un progetto qui abbiamo alcune persone anche del Buonarroti che vorrei salutare con cordialità ecco un progetto di fisco legalità in cui i nostri studenti hanno fatto diciamo gli attori di un attori nel senso tecnico non teatrale di un processo tributario con avendo come giudici i giudici della corte di castrazione che sono venuti ad Arezzo e loro facevano il commercialista l'avvocato difensore il pubblico ministero quindi hanno imparato attraverso un aspetto reale ecco quello che diceva lei mi sembra perfettamente consono questo allora abbiamo fatto un po' tardi e il professor Nepi ha detto che rinuncia al suo intervento per farci guadagnare un po' di tempo io però lo vorrei ringraziare per la presenza stamattina di tutta la mattinata con noi quindi vorrei dire che lui è qui a rappresentanza dell'istituto di scienze religiose la direttrice Doratella Pagliacci non è presente c'è il professor Nepi che però vorrei ringraziare davvero per questa presenza e per concludere vorrei invitare al tavolo anche il dottor Vignaroli se cortesemente vuol venire perché a proposito di questo ecco il dottor Vignaroli commercialista ci ha dato anche un'importante disponibilità perché noi vorremmo che questo progetto fosse il più trasparente possibile quindi la scuola ha bisogno sempre di soldi ma noi non abbiamo chiesto dei soldi genericamente per la scuola l'abbiamo chiesto in maniera specifica per questo progetto quindi avremo un comitato anche che poi gestisce questo aspetto e insomma mi è sembrato importante che ci fosse una persona di garanzia una persona un professionista noto insomma competente ben noto in tutta la città e quindi ecco io lo ringrazio perché è stato veramente generoso ecco nel dare questa sua disponibilità sono apparsi a competere miliardi di persone che prima erano esclusi quindi i vostri omonimi cinesi i vostri omonimi indiani per non parlare già dei giapponesi o i vostri omonimi coreani cercano di affermarsi nei mercati specialmente investendo nella conoscenza e nelle capacità voi dovreste sapere che quando in Corea del Sud ci sono gli esami d'ammissione all'università praticamente si blocca il paese in certe città è proibito persino il transito aereo perché coloro che fanno le selezioni non debbano essere disturbati e questo perché perché l'ammissione all'università permette a coloro che arrivano ai primi posti di andare nell'università più prestigiose e quindi avere le maggiori possibilità di impiego nel futuro ecco che quindi io mi raccomando a voi sfruttate questi strumenti e sfruttate tutto ciò che la scuola anche come diceva il vostro presido durante gli interventi è un po' conservatrice perché se no sarete destinati a essere espulsi molti di voi avranno dei fratelli più grandi che oggi vanno a chiedere cosa possono fare e purtroppo il mercato non non diarli risposta quindi utilizzate questi strumenti partecipatevi e cercate di collaborare nel miglior modo possibile perché di qui dipende il vostro domani le vostre famiglie di molti figli grazie 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 dottor Vignaroli ha fatto un messaggio molto diretto molto chiaro e quindi spero che effettivamente ecco quando noi leggiamo certi dati insomma che ogni anno in Cina vengono sfornati qualcosa come un milione e mezzo di ingegneri insomma effettivamente in qualche misura l'idea che siamo dentro un contesto competitivo va tenuto conto e dobbiamo prendere sul serio questo momento della formazione questo è un passaggio un piccolo passo che vorremmo portare in questa direzione ecco io per concludere però vorrei dare la parola come si dice per ultimo ma non ultimo per importanza all'ingegnere Massimo Brandigi che avete visto qui l'abbiamo messo come lui insegna insomma l'Università di Bologna nei master legati ai progetti aziendali ma devo dire è stata un'acquisizione straordinaria per la nostra scuola gli sono anche personalmente oltre che personalmente molto grato perché ha voluto spendere le sue competenze che sono straordinarie perché è veramente un mago anche di questo momento difficile che è il passaggio dalla preparazione scolastica universitaria a quella lavorativa e questo è un elemento veramente strategico a volte abbiamo anche come dire da un lato ragazzi brillanti dall'altro un tessuto imprenditoriale importante ma la connessione tra i due è a volte mancante per fortuna ecco ci sono persone come lui che hanno proprio queste competenze molto forti e mi fa piacere che oltre che all'ambiente universitario abbia voluto dedicare un po' di spazio un po' di tempo anche parecchio tempo devo dire in questa fase al mondo del liceo al mondo della scuola perché veramente diciamo senza di lui questo progetto insomma avrebbe avuto tantissime difficoltà che sono state invece affrontate quindi io ho approfitto dell'occasione perché vorrei proprio pubblicamente ringraziarlo e come dire dargli proprio questo spazio anche dentro la nostra scuola dentro la realtà scolastica retina per poter portare queste competenze anche di scouting in qualche misura ecco in una nell'ottica che diceva anche di Tornini Rodi cioè che dobbiamo veramente prendere molto sul serio questa situazione quindi Massimo davvero grazie e a te la parola mi rendo conto che i tempi sono andati molto oltre quello che avevamo pensato ringrazio Anselmo moltissimo per le parole che ha voluto dire ma non sono certo meritevole di tutto questo io non sono un insegnante non vivo il mondo della docenza se non perché mia moglie lo è e quindi lo porta anche nelle mura domestiche per conseguenza ho passato la mia vita nel fare nel decidere nel decidere fare in azienda conducendo aziende a gestione familiare qualcuna che forse non proprio a gestione familiare lavorando anche fuori di questo paese in contesti estremamente competitivi poi dopo mi sono accorto che avevo passato 40 anni di vita di lavoro e forse mi ero dimenticato che si poteva fare qualche cosa per chi questi percorsi li doveva cominciare e sono stato chiamato all'università per chiedermi se volevo fare qualcosa per i giovani ho detto beh sì e poi quando mi è stato chiesto che cosa ho detto insegnamento ho detto beh no perché non sono un insegnante professionista non ho la preparazione per farlo non è la mia missione non è il mio mestiere e poi ho cominciato spinto anzi trascinato cominciando mi sono appassionato e da un po' di tempo sto facendo delle cose che hanno uno scopo collegare la realtà del mondo imprenditoriale del nostro paese che è in una sofferenza pazzesca perché la situazione tutti quanti la conosciamo ma il nemico più grosso in questa situazione è la paura e la depressione perché se ci si ferma finisce tutto e non diamo futuro ai nostri giovani se non diamo futuro ai giovani finisce assolutamente la competitività di questo paese e allora mi sono messo a disposizione e la faccio una cosa molto semplice sia Sandro per un discorso che abbiamo affrontato l'anno scorso anche con te mi sembra che sono anni che facciamo questo e direi che la collaborazione è tale che le aziende danno progetti veri non progetti didattici su cui non c'è niente di strutturato ma è un impegno e un desiderio per portare avanti e apprezzano moltissimo non solo l'aspetto creativo ma anche l'aspetto di approccio professionale che gli studenti fanno ovviamente semplicemente guidati perché io non ho niente da insegnare io faccio veramente l'elemento che stimola la loro capacità e li riporta alla necessità di apprezzare anche gli altri quindi lavorano in gruppo invece che lavorare come singoli ora tutto questo credo che per la vita futura sia una delle cose fondamentali quando abbiamo parlato di questo progetto mi è venuta in mente un'altra cosa ma forse io sto parlando a quelli che sono ancora sono già troppo grandi forse si può fare qualcosa cominciando prima ma forse lì ci sono ancora altre risorse forse sono ancora più avanti di noi e mi riferisco alla problematica proprio di quella che è la comunicazione dove io mi sento un dinosauro sulla capacità comunicativa e sull'uso dei mezzi che sono a disposizione oggi fermo restando che sono sempre stato un dinosauro curioso quindi sono molto curioso ho molte discussioni in casa con i miei figli in particolare con uno che fra l'altro è anche uno studente di questo liceo e tendo sempre a dare due elementi fondamentali mai perdere la speranza mai perdere la curiosità avere la voglia di tutto ma attenzione a non temere i pericoli perché se sei capace di condurre allora è il tuo mondo se invece diventi un oggetto non più una persona usato da quel mondo è estremamente pericoloso il confine è veramente veramente difficile perché non è ben definito e quindi questa è la sfida per i ragazzi ai ragazzi bisogna insegnare ad essere padroni di quello che fanno nell'ambito di questo non c'è niente a mio avviso di più utile perché acquisizione di questa conoscenza di lavorare su progettualità vera le aziende che hanno aderito al progetto che avete visto sono cinque ma non sono solo cinque perché diciamo che è già sul tavolo di altre aziende ma non hanno ancora formalizzato l'impegno su questo ma non ho dubbi che sarà fatto devo dire che c'è un'apertura proprio su questo aspetto cioè l'aspetto di un impegno da parte dell'azienda ma non è un impegno sociale questo è stato detto molto bene è una necessità è un investimento è un investimento a che cosa? alla cosa più importante perché i migliori cervelli di questo paese devono andare a lavorare da un'altra parte perché? perché non c'è l'offerta non c'è non c'è un'offerta di lavoro dignitoso al di là dei due euro l'ora mi fa pensare mi fa pensare la paghetta alla paghetta alla paghetta la paghetta a mio figlio quando mi aiuta a fare qualcosa è superiore a quello estra paghetta quindi quindi devo dire devo dire che qui questo è un seme ecco perché io sono orgoglioso di fare di dare il mio tempo di mettere a disposizione questo perché ci credo tutto qui e vi ringrazio per avermi ascoltato grazie e grazie anche per questo intervento che ci ricorda proprio questa tematica del futuro da cui siamo partiti e a cui vorremmo tornare il futuro che stiamo preparando per cui cerchiamo di essere pronti è il futuro proprio dei nostri studenti e questo lo possiamo fare e torno mi pare in maniera ciclica ma avendo avuto la possibilità di dare sentire tanti contributi interessanti a quanto dicevamo all'inizio cioè che veramente occorre partire con un programma che non sia breve che sia insieme a tante altre realtà e questo mi sembra che sia stato un passo iniziale molto importante passo iniziale che però dovrà essere eseguito da altri e insomma è già stato ricordato insomma non si tratta soltanto di rivedersi per la prossima rata che ci farà molto piacere peraltro quindi insomma però ecco soprattutto questo elemento di collaborazione anche su progetti veri reali propriamente in cui anche dal punto di vista dei studenti credo io so che quello che scrivo non sarà letto soltanto del mio insegnante ma sarà un qualcosa su cui altri possono dire la loro confrontarsi credo che sia già un elemento molto importante quindi grazie davvero a tutti i partecipanti tutti gli intervenuti ai nostri studenti che poi insomma sono loro il fine lo scopo per cui tutto questo è stato realizzato per cui vi insomma teniamoci in contatto seguitici sul sito avremo via via insomma gli sviluppi faremo sapere e anche magari altri incontri in cui cercheremo di fare il punto della situazione e i vari passaggi che sono stati realizzati quindi grazie a tutti grazie